Satna. In questo podcast vediamo la parte 2 degli otto anga dello yoga. Nel precedente podcast siamo arrivati a Pranayama, quindi abbiamo analizzato le prime quattro membra, le prime quattro parti del sistema dello yoga, così come ci viene presentato Tapatangeli più di 2200 anni fa nel Yoga Sutra e abbiamo visto Yiyama, Niyama, Asana e Pranayama. Abbiamo visto che le Yama, in una metafora dello yoga come se fosse un albero, rappresentano le radici e sono 5, Aimsa, non violenza, Satya, verità, Bramashari, continenza, Asteia, non desiderare ciò che non hai, non desiderare ciò che non è tuo, Aparigrara, non accumulare, lasciare andare. Abbiamo visto poi Niyama che invece rappresentano il tronco del nostro albero e sono delle osservanze che regolano la relazione del nostro essere con noi stessi, il nostro interno e sono Saucha, la purezza, Santosha, la contentezza d'animo, Tapas, il rigore, la disciplina, Svadigyaia, lo studio del sé, Isvara Pranidana, l'abbandono a qualcosa di più grande di noi. E quindi per estensione abbandono all'assoluto. Abbiamo poi visto gli Asana che rappresentano i rami del nostro albero dello yoga, poiché ci permettono di essere sia fisicamente che a livello più sottile, quindi emotivo, mentale, flessibili e forti, ai venti della vita, in armonia con i venti della vita, quindi regalano al nostro corpo flessibilità e forza. E poi abbiamo visto il Pranayama, questa creazione, distribuzione e mantenimento di prana, di energia che avviene ogni qual volta si realizzano questi scambi gassosi, quindi ogni volta che respiriamo e portiamo anche l'attenzione a questo respiro mentre ci muoviamo, mentre facciamo yoga. Quindi abbiamo detto che Pranayama non si realizza solo quando fai degli esercizi specifici e profondi di respirazione, ma proprio tutte le volte che entri in uno stato di attenzione mentre esegui i tuoi Asana, le tue posizioni sul tappetino. Vediamo ora gli altri quattro Anga, quindi siamo un po' a metà del nostro cammino. Abbiamo Pratyayara che invece rappresenta la corteccia del nostro albero, quindi come la corteccia protegge l'albero da quelli che sono gli agenti esterni, ma impedisce anche alla sua essenza, alla sua linfa interna di fuoriuscire, così nella pratica dello yoga il Pratyayara è ciò che ci permette di ritirarci verso l'interno. Andiamo proprio all'etimologia del termine. Pratyayara significa via e ara dalla radice irra significa tirare, quindi Pratyayara potremmo tradurlo letteralmente come tirare via. In realtà che cos'è che tiriamo via? Tiriamo via la nostra attenzione dei sensi dall'esterno verso l'interno. Se ti soffermi un attimo a riflettere, tutti i nostri sensi, occhi, orecchie, bocca, tatte e quant'altro, sono lì pronti a recepire informazioni che arrivano dall'esterno. Comparati a Yara, nello yoga vuoi fare un qualcosa di inverso, cioè vuoi distaccarti da questa attenzione verso l'esterno. Vuoi distaccarti dal mondo esterno per entrare in te stesso, in te stessa e percepire le tue sensazioni, ciò che ti arriva, senza i filtri della mente conscia. Quali sono questi filtri? Le abitudini, le paure, i dubbi, i partner comportamentali, quindi gli schemi comportamentali. Perché? Perché sono tutti filtri automatici che noi, mentre andiamo in giro per il mondo, applichiamo. Attraverso la pratica preziosissima del Prataya Yara, che lo yoga ti mette a disposizione, ti fa apprendere, cominci a capire come, ritirando i sensi verso l'interno, quindi rientrando verso di te, eviti di continuarti a comportare con questi schemi, con questi dubbi, con queste paure, con questi filtri appunto della tua mente conscia e riesci a percepire il mondo attraverso una parte un pochino più pura, quella profonda, un intuito che è già dentro di te. È già tutto dentro di te, ma spesso non lo vediamo neanche perché siamo troppo abituati a stare con i sensi verso l'esterno. Invece con il Prataya Yara è come se rientrassimo all'interno. Facciamo un esempio chiaro, perché so che questo è un concetto che a volte risulta un po' difficile. È come se fossimo un artista, supponiamo uno scultore, che decide di creare, ha un'idea, gli viene l'idea, un'idea così intuitiva, vuole creare una bellissima statua, una bellissima venere. Per fare questo però, questo artista, questo scultore, ha un attimo bisogno di mettersi a lavorare. Ovviamente ha bisogno dei suoi materiali e della sua calma, della sua pace. Quindi che fa? Si ritira nel suo laboratorio, si ritira dal mondo per andare nel suo laboratorio. Un altro esempio, gli scrittori. Quando uno scrittore deve dedicarsi alla stesura, alla creazione di una nuova opera, di un nuovo libro, spesso ha bisogno di andare in un posto tranquillo, calmo, che possa appunto rappresentare una sorta di laboratorio per lui, in cui lui possa essere in contatto con le idee più profonde della sua mente e dare vita alla sua nuova opera. Ecco, quando facciamo Pratia Yara stiamo facendo questo, ci stiamo ritirando in un laboratorio creativo per sintonizzarci proprio su un altro livello, perché se rimanessimo lì in mezzo alla piazza dove c'è il mercato, le urla, le grida, le persone che passano, ovviamente sarebbero elementi di disturbo e di distrazione. Quindi abbiamo bisogno di ritirarci. Ecco, con Pratia Yara fai esattamente questo. Ti posso dare, i miei allievi lo sanno, perché tutti questi hanga, questi membri dello yoga, li abbiamo studiate e applicate, quindi anche se sembrano qui in questo podcast dei principi teorici, in realtà la teoria dello yoga è tutta applicabile e non ha senso se non viene applicata. Quindi queste parole, vedrai, scivoleranno via, ti attraverseranno proprio come aria in una canna vuota se non vengono applicate. E nei miei corsi live online abbiamo nel mese di giugno, giugno 2023, qui sto realizzando anche questo podcast, abbiamo cercato di applicare concretamente questo concetto. Ci sono delle tecnologie dello yoga che ti aiutano a percepire dei primi stati di Pratia Yara che sono Shanmukri Mudra, la Mudra delle Sei Porte, e Bramari Pranayama. Se sei curioso o curiosa ti lascerò nell'info box di questo podcast su YouTube, sotto nell'info box il link ad un mio precedente articolo in cui ti parlo di queste tecniche che possono farti toccare, diciamo così, un primo livello di Pratia Yara. Bene, passiamo al sesto hanga, quindi a questo sesta membra del nostro yoga che è Darana. Darana rappresenta la linfa del nostro albero che scorre attraverso i canali di tutto l'albero, quindi del tronco, delle foglie, dei rami, così da mantenere saldo l'insieme dell'albero, quindi l'insieme nel caso di noi umani corpo e mente. Allora, Darana è una parola sanscrita che deriva dalla radice Dri, che significa mantenere, e si intende soprattutto mantenere la concentrazione. Da adesso in poi i prossimi hanga, quindi i prossimi membri dello yoga, sono veramente tutte compenetranti l'una dentro l'altra, come effetto domino. Quindi man mano che tu nella tua pratica metterai a frutto i successi, il risultato del Pratia Yara, quasi automaticamente passerai in Darana. Darana è proprio la capacità, come dicevamo, di mantenere a fuoco l'attenzione, quindi la capacità di concentrarsi. Ci sono anche in questo caso delle tecniche che puoi utilizzare per allenare questa capacità di mettere a fuoco la tua attenzione e di rimanere concentrati. E poi, nello yoga ad esempio, si consiglia di portare tutta la tua attenzione su di un punto, magari osservando la fiammella di una candela, come si fa nella tecnica di Tatraca, oppure osservando un disegno particolare, una forma, uno yantra, oppure, e questo spesso noi occidentali non lo capiamo, perché dalla nostra cultura è venuto un po' meno, anche se sono presenti modalità di concentrazione di questo tipo anche nella nostra cultura occidentale, l'utilizzo del mantra. Alcuni mantra, ripetuti e ripetuti e ripetuti, aiutano la nostra mente a rimanere concentrata. Oppure portando la nostra vista interna in un punto specifico del nostro corpo. Ci sono proprio delle parti specifiche che possono aiutarti in questo sperimentare, in questo provare concretamente il senso di darana, che sono per esempio portare l'attenzione al punto in mezzo alle due sopracciglia, al nostro terzo occhio, oppure sull'ombelico, sul cuore, oppure alla radice della lingua. E anche in questo caso tutto sta nel farlo, tutto sta nell'arrivare alla pratica. Insomma, come insegnante di yoga ho delle parole a mia disposizione per descriverti, per parlarti teoricamente di questi yanga, però ripeto, poi il tutto sta nella pratica. Perché è importante questa parte, questa membra dello yoga darana? Perché stabilizzare la mente, mantenere la mente concentrata per un determinato periodo di tempo, in un determinato punto, ti potrà aiutare nello step successivo ad osservare te stesso. Quindi, piano piano, continuando la pratica di darana, quindi continuando la pratica di stabilizzare la mente, di renderla concentrata, sarà normale, anche in questo caso, passare da una concentrazione su un punto, stabilita su un punto per un determinato periodo di tempo, ad una concentrazione che invece comincia a diventare uno stato più diffuso. e questo tipo di concentrazione più diffusa nel tempo si chiama dhyana, che è il settimo anga, la settima parte del nostro yoga, che rappresenta il fiore, il fiore della nostra pratica. Quindi, man mano che pratichi, applichi nella tua vita, yamani, yama, asana, pranayama, pratea yara, arrivi a darana e da darana, piano piano, si arriva a dhyana. Attenzione che da rana si può fare, cioè io posso in maniera volitiva portare la mia attenzione su un punto, sia essa appunto una fiammella, uno yantra, oppure portare l'attenzione sul naso, sul centro del petto e via dicendo, e quindi rimanere in quello stato di concentrazione. ma soprattutto il passo successivo, quello di dhyana, che abbiamo detto è un'attenzione duratura nel tempo e diffusa, che non ha neanche più bisogno di un punto su cui poggiare la nostra attenzione, è un qualcosa che non è che mi metto lì e adesso faccio dhyana, è un qualcosa che avviene, avviene, ti puoi mettere lì, fare asana, pranayama, ovviamente, e puoi praticare lo yoga, ovviamente abbiamo detto che lo yoga è pratico, però alcuni stati, soprattutto questi ultimi tre stati, che sono proprio stati di integrazione, che si integrano l'uno con l'altro, avvengono, avvengono proprio a effetto domino. Considera che darana, dhyana, e adesso vedremo l'ultimo stato samadhi, che è proprio il frutto del nostro albero, della nostra pratica, vengono detti samiyama, cioè degli stati proprio di integrazione, che integrano anche lo yoga un pochino più fisico, quello delle asana, del respiro, ancora il pratagliare, ancora fisico, perché con voi gli giri, i sensi verso l'interno, darana, dhyana e samadhi arrivano nel livello in cui si integra il mentale, il sottile, con il fisico. Quindi dhyana, abbiamo detto, è questo assorbimento, questa attenzione, questa concentrazione e duratura nel tempo è diffusa, che tecnicamente, quando pratichi yoga, puoi provare i stati di kumbhaka. Quindi, kumbhaka sono quegli stati in cui c'è la sospensione del respiro, e possono essere antara kumbhaka o reshaka kumbhaka, quindi ci può essere una sospensione del respiro a polmoni vuoti o a polmoni pieni. E queste due modalità è proprio in kumbhaka che può avvenire più facilmente il manifestarsi di dhyana, quindi questo assorbimento, questa concentrazione che è totale, che ripeto non è basata su un punto, non ha bisogno di yantra, mantra o punti su cui convogliare la tua attenzione, ma diventa proprio uno stato di concentrazione diffusa. Ed è da dhyana che poi, automaticamente, si può arrivare a samadhi, a questo assorbimento completo. Quindi abbiamo detto, compro da yara, chiudo i sensi all'interno, ok? Con dharana comincio a mettere a fuoco la mia attenzione, quindi comincio a concentrarmi. Con dhyana non c'ho neanche più bisogno di un punto, di un oggetto su cui poggiare la mia concentrazione, perché comincio ad entrare in uno stato di concentrazione diffusa ed è da dhyana che poi c'è lo step forward, quindi il trampolino di lancio, che ti può far arrivare a samadhi. Anche samadhi non è che si pratica, arriva, avviene. E samadhi è proprio il completo assorbimento, quando perdi addirittura la consapevolezza di te stesso e non c'è più ego. Per questo utilizzerò una metafora che spero ti faccia capire bene finalmente questo senso dello yoga. Il samadhi, questo stato di puro assorbimento, di illuminazione, potrebbe essere paragonabile a quello stato in cui spesso si trovano gli artisti quando compongono la loro opera. Supponiamo un cantante, quando gli viene quell'illuminazione e butta giù le parole di una canzone che poi diventerà famosissima, lo fa su questo stato quasi di trance e va e va e diventa come un mezzo della sua stessa intuizione su cui appunto poi darà luogo, darà frutto a questo bellissimo componimento, a questa bellissima musica, canzone. Uguale per uno scultore, è quello stato in cui lo scultore comincia a scolpire il pezzo di marmo e dà vita alla sua bellissima opera, alla sua bellissima scultura e così via. Quindi lo yogi in realtà, in questo senso, potrebbe essere paragonabile a un artista perché quando arriva in samadhi c'è questo completo assorbimento, perde proprio la consapevolezza di se stesso e arriva in questo stato di illuminazione. Ma, differentemente dall'artista, lo yogi non ha bisogno di creare un prodotto di questo stato. rimane semplicemente lì, in pura beatitudine, senza bisogno di creare nulla, senza bisogno di dare un output a questa sensazione, a questo livello di coscienza, di illuminazione. e quindi capisci, alla fine di tutta questa esposizione, che lo yoga è una forma d'arte che non ha bisogno di un output esterno perché è una forma di arte della tua stessa esistenza. Non so se si evince la profondità di questi anga dello yoga e del sistema dello yoga tutto, spero di sì. Potrei continuare ancora con ulteriori approfondimenti in merito al samadhi, ma preferisco terminare qui perché nel momento in cui arriviamo su questi tre ultimi anga, dara ana, dhyana, samadhi, in realtà le parole veramente servono a ben poco. Si tratta di stati che devono essere provati, sperimentati, praticati. Posso solo mettere in guardia dicendo di diffidare da chi magari vi chiede se siete entrati in uno stato di samadhi, vuole sapere. Samadhi è un qualcosa di estremamente intimo e diffidate anche da chi magari sotto veste di guru, maestro o quel che sia, vi dice adesso ti porti in samadhi. non è così che funziona. Nessuno ha il potere di portarti in samadhi. Tutto quello che ti ho esposto in questi due podcast è una teoria che puoi capire, comprendere solo, ripeto, forse per l'ennesima volta, se praticata, se messa in atto da te e da nessun altro e non c'è nessun altro che al posto tuo o che in maniera di guida, di aiuto può portarti in questi stati, può portarti a percepire questi concetti, li devi percepire da te. In questo lo yoga, se vogliamo, è anche un pochino duro, tra virgolette, in quanto sei tu da solo, da sola, sul tuo cammino. Gli strumenti ci sono tutti. Patangeli 2200 anni fa ce l'ha dati tutti, non c'è niente da inventare, c'è solo da mettersi con costanza, disciplina, serietà, nella pratica e nello studiare. Ti porto questa panoramica del Yanga perché in questo mese di giugno, giugno 2023, nei miei corsi live online, in ogni singola lezione con i miei allievi abbiamo studiato questa teoria e poi l'abbiamo messa in pratica sul nostro tappetino. Quindi come insegnante di yoga ho letto, riletto libri, opere che parlano di questi Yanga e qui in questi podcast ti espongo quanto ho letto. Però, ripeto, questa vuole essere solo un'esposizione che possa veramente darti ancora di più la voglia di approfondire, di capire bene queste mie parole e di viverle, ripeto, attraverso una pratica e un'esperienza diretta perché non c'è nessun maestro neanche nessun libro che si può sostituire a questo. Tuttavia, per aiutarti, uno dei libri che per me sono stati una luce nell'approfondimento delle membra dello yoga è proprio l'albero dello yoga del maestro Yanga. Nell'articolo correlato a questi podcast ti rilascerò il link dove puoi trovare l'edizione di questo libro che personalmente ho letto, riletto tante volte e sento ancora la necessità di leggerlo ancora perché appunto non si finisce mai. Altra postilla, conclusione, ricorda che tutti questi concetti anche a livello esperienziale, quindi anche quando li metterai in pratica, puoi capirli, comprenderli a seconda anche del tuo grado di apertura in quel momento. Ecco perché non si finisce mai di studiarli, perché non sono dei concetti che si possono percepire, vivere una volta per tutti. Si percepiscono, si vivono nelle varie fasi della nostra vita e come sappiamo ogni fase ci porta ad un'apertura differente. Quindi il grado di permeabilità anche del significato, del senso di questi concetti è direttamente promozionale a quanto siamo aperti e pronti a capirli. E la cosa meravigliosa è che appunto non si esauriscono mai, perché andando avanti nella nostra vita avremo un grado di capacità di apprendere questi concetti sempre differente. E infine, prima di concludere, ci tengo anche a ringraziare tutti i miei allievi che mi hanno seguito nei miei corsi live online in questo 2023, con i quali appunto nel mese di giugno 2023 abbiamo affrontato questo studio e ringrazio la loro dedizione, la loro pazienza, la loro attenzione e anche il loro entusiasmo quando appunto a lezione abbiamo studiato queste otto membra dello yoga. So che quanto detto, quanto esposto qui, può essere di difficile comprensione e alla parte più difficile potrebbe essere anche quella di applicare questi concetti nella tua vita quotidiana, di portarli con te anche fuori dal tappetino. Ma, piccola rivelazione, gli insegnanti di yoga esistono proprio per questo, cioè esistono per aiutarti a capire come applicare questi yoga anche nella tua vita quotidiana e non solo sul tappetino. Quindi l'insegnante di yoga non è lì solo per occuparsi, di migliorare la tua flessibilità, la tua performance nelle varie posizioni yoga, ma quanto e soprattutto per aprirti delle finestre, per darti una mano nell'applicare questi yoga dello yoga nella tua vita quotidiana. Ricorda che questi yoga sono universali e si applicano allo yoga tutto, indipendentemente dalla scuola, dal guru, dalla maestra, maestro, famiglia, di appartenenza, ostile, appunto, che tu abbia deciso di seguire. Fammi sapere nei commenti sotto a questo podcast, magari sul mio canale YouTube o nei commenti sotto all'articolo correlato a questi due podcast, se sono stata abbastanza chiara e se questi materiali ti saranno utili nel tuo cammino dello yoga. Ti ringrazio per l'ascolto, buona pratica e buona vita. Namaste. Grazie. Grazie. Grazie.